Uno spazio di aggregazione che rimarrà a futuro ricordo delle tradizioni e della storia della Guardia di Finanza e un presidio anche sul parco per la legalità e per il buon vivere per i cittadini del Valtellina e di Sondri. Nel 250esimo dalla fondazione della Guardia di Finanza e dopo la recente inaugurazione della rinnovata caserma Valtellina, oggi nella giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate alla presenza del prefetto di Sondrio Anna Pavone, del sindaco del capoluogo e delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, si è tenuta al Parco Ovest la cerimonia di intitolazione del Parco Fiamme Gialle. Il comandante provinciale Cavallaro ha ringraziato l'amministrazione comunale per aver voluto ricordare e celebrare le Fiamme Gialle in Valtellina e in Val Chievenna con l'intitolazione di uno spazio di aggregazione che valorizza la tradizione e la storia dell'istituzione e lo stretto rapporto con il territorio e con la popolazione tutta. Dopo gli interventi del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e del prefetto è stata scoperta la targa di intitolazione del Parco con la benedizione di Don Cristian Bricola, arciprete di Sondrio e la lettura della preghiera del finanziere. La cerimonia si è conclusa nella rinnovata caserma Valtellina con un saluto del comandante provinciale, alle autorità e agli ospiti intervenuti.